Questa è una finanziaria che propone soluzioni ordinarie per tempi straordinari, è come se la giunta Fedriga ballasse sul Titanic, mentre il mondo è in crisi, qui si fa finta di nulla. Con una vena polemica che gioca ad anticipo rispetto a quelle, che saranno poi le probabili intenzioni già preventivabili circa l'atteggiamento della maggioranza in consiglio regionale verso le proposte delle opposizioni, i consiglieri regionali triestini del Partito Democratico, Francesco Russo e Roberto Cosulini, hanno esposto oggi le proposte verso la finanziaria regionale che l'Aula affronterà questa settimana. Spazio a periferie e linea di costa a Barcolana da parte di Russo. Qualcosa per le periferie, le telecamere non sono mai arrivate nei comprensori Ater e abbiamo scoperto un auditorium a Valmaura che andrebbe rivitalizzato perché così ci chiedono i residenti. Poi un'idea strategica sulla linea di costa, non basta risistemare il porfido se poi dopo due settimane una mareggiata porta via tutto. Dobbiamo ripensare insieme a tutti i comuni, all'università e all'autorità portuale quale sarà la linea di costa della Trieste del 2050. Molto focalizzata sulla sanità la proposta di Roberto Cosulini che sul tema ha dedicato alcuni minuziosi ragionamenti. Più risorse per la sanità pubblica, più risorse per le aziende perché, contrariamente a quanto ci viene detto, lo stanziamento di apertura non è sufficiente a responsabilizzare i manager nella conduzione ottimale delle aziende. Un piano di 10 milioni per recuperare i tempi delle chirurgie oncologiche abbiamo visto degli indicatori particolarmente negativi e premialità per il personale della sanità pubblica e per i medici di medicina generale che vengono o si impegnano a rimanere per almeno 5 anni in Friuli, Venezia e Giulia. Abbiamo bisogno di risolvere queste due criticità il personale della sanità pubblica e la carenza di medici di medicina generale. Sarebano interventi forti.